ed eccoci qua nel terzo incredibile episodio delle revioni incredibili sempre registrati tutti insieme così che il cameraman si distrugga vero cameraman andiamo da su eccoci qua di nuovo lo sto dicendo troppe volte oggi sta frase oggi faremo la revi no oggi oggi per voi però oggi per noi ho detto una cazzate scusate e allora lo dico io e oggi faremo la revione incredibile del trailer di lo spin off di megumin senti megumin conosuba conosuba mamma mia quanto è carino sus quando fa le imitazioni di conosuba e ve lo diciamo e ve lo diciamo palesemente su conosuba ci sarà un episodio di quattro chiacchiere probabilmente il prossimo anno perché io non vedo l'ora di mettere in testa sus il cappellino di megumin che il nostro cameraman ci farà e disegnerà e farà tutto vero mamma mia e voglio diventare una una bella maghetta che fa esplodere le cose e io mi metterò un cappello curio perché che cazzo mi metto tutti oppure potrei travestire sus da gatto come si chiamava il gatto lo mettiamo in editing qui incredibile e io mi metterò messo da megumin mamma mia comunque questa serie ci sta siamo abbastanza in hype per questa serie perché conosuba è una serie molto divertente stupida ma divertente e i personaggi sono molto simpatici però eh già e megumin è la figlia che tutti vorrebbero avere esatto e che sblosio è un cuoco allora niente adesso metteremo incredibile adesso metteremo il trailer di megumin e ci vedremo questo incredibile tanto ci fa ridere perché adesso in questo momento sta spopolando mercoledì questa serie incredibile un po' scolastica un po' harry potter un po' e poi insomma c'è lei che è fantastica di quello però faremo anche una chiacchierata in futuro e e adesso esce una insomma è stata annunciata proprio in questo momento una serie che sembra i primi frame che abbiamo visto perché lo stiamo scaricando il video incredibile e con castello incredibile quindi insomma siamo una citazione a quello insomma è un collegamento che non c'entra un cazzo però volevo dire qualche cosa ve lo suss... vabbè insomma apprezzate quello che dice su maestà maledetti e succhiate bravo su che dice succhiate e niente ci prepariamo e ci vediamo tra poco eccoci qua partiamo subito beccoledì mia figlia mamma mia questa si vedeva nel film ma c'è quante fighe scusate ma c'è quante fighe scusate eeeh ora ne parliamo eccoci qua dovrebbe uscire quindi 2024 visto che noi siamo bravissimi in giapponese questo dovrebbe essere eh aprile tisina febbraio aprile vero capito ma lo metteremo in editing quindi dovrebbe uscire a spring 2023 e dato che noi siamo così esperti di stagione ovviamente a fine anno poi faremo insomma vi parleremo anche un po' di anime visto che fanno molto forte e e perché vogliamo dire un paio di cagate anche su quello tanto per dirne di più visto che siamo famosi per dire cagate vero suss e insomma sempre meglio di essere famosi per qualche cosa che non essere famosi per niente ecco bravo suss che dice sempre perle perle di saggezza grandi come la sua testa ecco bravo suss allora che dire è bellissimo noi adoriamo me come mamma mia e la vorrei abbracciare tutta con le mie non mani e purtroppo non suss non ha le mani però la abbraccerebbe lo stesso e qui niente ci sono un sacco di belle scus ho detto fiche in diretta vabbè poi lo editiamo vero camera che editerai quella cosa bravo camera che edita e ci sono un sacco di persone di crime c'è alcuna mamma mia mamma mia fammi esplodere ve lo so mamma mia e ci dobbiamo limitare coi commenti perché altrimenti il video diviene troppo spinto e quindi non possiamo di tante cose però insomma ci siamo capiti ci siamo capiti ecco appunto e niente è adorabile insomma uno slice of life ambientato in questa accademia esplosiva che dovrebbe essere la scuola per diventare insomma maghette esplosive pacorezzo pacorezzo mamma mia insomma sta come bravo quando dice queste cose e lo so su smacco mia mamma e mi eccito da solo mamma mia e niente si vede pure la famiglia di megumi che si era vista nel film se non era film sì il camion ci conferma il film che era uscito che era uscito l'anno scorso l'anno prima lo mettiamo in editing anche quello e niente è molto carino ce lo vedremo sicuramente faremo le chiacchiere su tutta la serie di megumin anzi no insomma su megumin e su konosuba prossimo anno voi non avete idea di quante cose vogliamo fare però mannaggia e lo so non c'avemo i tempi tecnici e siamo ridotti male mannaggia mannaggia e niente e niente fateci sapere se vi piace a noi ci piace tantissimo e niente lo vedremo sicuramente per l'altro è figo il logo tutto fiammoso e esplosionoso che non vuol dire un cazzo però se qui è famoso il bambino di petaloso noi possiamo dire queste cose però non rompete i coglioni ecco appunto bravo e niente scherzo mi saluta sus mi saluta camera mi saluta e niente ci vediamo al quarto episodio di revion che registreremo sempre adesso perché abbiamo un po di tempo quindi niente altra poco incredibile scusate non è vero fail totale il cameraman giustamente ci ha detto che c'è una scena post credit perché siamo dei coglioni e non abbiamo premuto abbiamo stoppato prima velo sus e vabbè il cameraman non sa che porti di lavorare mannaggia mannaggia ok vediamo subito sta città mia figlia ok ragazzi ok no basta stop stop e niente ok sus che ne pensi e vabbè le ragazze cioni sono molto cioni ecco bravo sus e niente ora veramente lo tagliamo veramente un a prossimo a prossimo a prossimo a prossimo